I cuscini gonfiabili Propablank sono la soluzione ideale ed economica per stabilizzare i carichi durante il trasporto. Il gonfiaggio dei cuscini avviene mediante l'uso di un'apposita pistola e di comune aria compressa. Il cuscino può essere posizionato sia in orizzontale sia in verticale, adeguandosi così agli spazi da riempire. La valvola è disponibile in versione flessibile per i cuscini monouso e rigida per i cuscini riutilizzabili. Una volta raggiunta la pressione ottimale, il cuscino immobilizzerà il carico. È sufficiente inserire i cuscini negli spazi rimasti vuoti per proteggere il carico da urti o spostamenti durante il trasporto. Airbag Propablank. Altissima resistenza, disponibile con valvola flessibile o rigida, economico, ecologico, 100% riciclabile, interamente prodotto in Italia. Con gli Airbag Propablank il vostro carico resterà stabile e protetto durante tutto il viaggio.